Adesso ci andiamo a vedere un nuovo video dei cannone in Fibber Io in realtà non so neanche di cosa si tratta Ce lo vediamo subito Comunque si ha il... la copertina sembra molto bella Mo' ve lo riapro Allora io direi di partire proprio con Der Fusilier 1 Visto che ci siamo Signori andiamo a vedere che cosa ci dice questa nuova canzone dei cannone in Fibber Io ovviamente metterò questa che è l'Official Lyrics Video Anche se mi piace molto questa Vabbè Vediamo un po' se c'è qualche descrizione qua no eh C'è solo la... Il testo della canzone giustamente E allora niente Ma adesso ce l'ascoltiamo Andiamo a... Mamma mia Mi regalano sempre emozioni loro eh C'è un cazzo da fa' Ma perché... ma perché... perché è così bello Ascoltare Queste cose Perché ti rievocano sempre Quest'atmosfera proprio degli anni... Dei primi anni del novecento Cioè come fate solo mettendo Una... una voce che parla Cioè regà è... Oh io non lo so Troppo bello Quella... Beh la croce di ferro Mamma mia Madonna Ma tutti sti cimeli dove li trovano poi? Cioè... Per carità... Per carità sono appassionati Tutto quello che volete eh Però... Comunque... Questo non è il... Kaiser Guglielmo II però... Grazie caro per il follow Nooo... Mo' si Madonna Che figata Ma quanto può essere... Ma... Regà io vi ripeto Ma quanto può essere bello Che i cannone in Fiber Ti fanno vedere proprio queste cose Cioè quanto può essere bello Nooo... 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 ma dò regà sono partiti incazzatissimi manco se riconoscono sono partiti veramente incazzati proprio incazzatissimi si sente proprio un miglioramento per quanto riguarda la chitarra e il cantante pure è migliorato tantissimo poi vabbè se vogliamo parlare di quel mitragliere alla batteria vabbè incazzatissimi neanche li riconoscevo maschgepäck so spièr Senti qua Molto inquietante comunque quella chitarra di sottofondo Non è una cosa scontata Queste chitarre così inquietanti le sento solo ed esclusivamente in alcuni gruppi Che non parlano di guerra Parlano di altre cose Che proprio appunto vogliono rievocare quel sound molto più inquietante Roba tipo Achilles Che parlano appunto di paranormale e demonologia Se hanno voluto fare una cosa del genere C'è un motivo qua che hanno in fibra C'è un motivo qua che hanno in fibra C'è un motivo qua che hanno in fibra Mamma mia, devo leggere il testo Devo assolutamente leggere il testo Appena finisce me lo traduco Ciao 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 Stanno a fare dei passi in avanti enormi Questo comunque Questo non mi sembra il Kaiser Ma vediamo Ma bellissimo il ritornello E' proprio Grazie a tutti Bellissima raga Bella vera Mamma mia Madore raga Ma quanto cazzo è bella sta canzone Mamma mia raga Questi spaccheranno i culi Questo è solo Raga Eh to be continued Grazie Grazie Deve usci per forza la canzone nuova Cioè deve usci per forza l'album nuovo Ma quanto spacca i culi sta canzone Mamma mia Mamma mia signor Signori Ma quanto cavolo spacca i culi Bella raga Bella Bella Ma bella vera Adesso ci vediamo un attimo Che cosa ci dice questa canzone Ok 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 Sembra interessante Perché già che parte così Ci siamo trasferiti Nei Carpazzi Fuggito dal nemico In Gallizia A Vabbè Centomila uomini Così abbiamo iniziato la battuta d'arresto Per raggiungere le nostre truppe Andia Vabbè Andiamo oltre mille cadaveri Nessun colpo è stato sparato Eeeh L'inverno Ci toglie la vita Immaginavo Data la Comunque sia L'artwork Data l'artwork Che è Veramente Stupenda Vabbè Tra l'altro Non vedo qua Che è bellissima L'artwork Regà Cioè Poco da fare Poco bella Giustamente Ci si poteva arrivare Che era Che comunque sia L'inverno Era l'inverno Che avrebbe Fatto comunque sia tutta la Un po' come hanno fatto i Sabaton Con Soul Deer of the Soul Deer of the Heaven Se non sbaglio Una delle ultime canzoni Che parlano appunto del Soul Deer of Heaven Infatti parla della guerra bianca Combattuta sul fronte alpino E In poche parole Si Parla dei soldati Che appunto ci hanno lasciato Per colpa del freddo Credo sia anche questo E musicalmente L'hanno fatto Veramente in un modo divino Adesso vediamo Che cosa ci dice Un casco Una pistola È così che si trova L'esercito È così Che si trova Nell'esercito Baionetta Fibbia Fibbia Integrato nel convoglio Zaino Fibbia Integrato nel convoglio Zaino Tunica Dio è sempre con noi Il fuciliere sta marciando Nonostante l'inverno Il pacco da campo Così pesante Le menze sono vuote Ogni dolore Ogni passo Porta dolore Ma l'obiettivo è ancora Così lontano Eccoci allo Zwimmercam Che non so cosa sia Neve così alta Che Puoi stare solo in piedi Sono già Morti duemila uomini La fredda morte Ci ha in mano Niente rifornimenti Moriamo nel ghiaccio La fame piange E morde Le dita delle mani E dei piedi Sono nere Congelato Non ucciso in battaglia Là dove giacciono E muoiono di freddo Il fuciliere sta in piedi Il fuciliere sta in piedi Lontano da casa Non con te Il fuciliere supplica Il fuciliere supplica Omicidio e omicidio colposo Stiamo marciando Il fuciliere va Il fuciliere va Fattoria Mogli e figli Sempre con me Viva il fuciliere Viva il fuciliere Eh E niente Questo è Il ritornello Che si ripete Insomma Mamma mia Devo dire che Questo testo Fa Veramente Mette i brividi Soprattutto Dopo aver visto Appunto Di cosa parla È veramente Come dire Toccante Diciamo Pensare che Delle persone Nonostante il freddo Nonostante tutto Dovessero Per forza Andare in guerra Questa cosa Fa veramente Mi fa ribrezzo Se vuol dire Perché la guerra Non è una cosa Che vogliono i popoli E nonostante tutto Siamo costretti A dover combattere Per delle persone Che Inseguono I loro ideali Per che cosa poi Siamo o non siamo Comunque siamo Tutti Fratelli Diciamo Siamo o non siamo Tutti della stessa specie Perché Dobbiamo andare A uccidere Altre persone Per colpa Di Coloro Che stanno Al governo Coloro che stanno Al In cima A tutto Che ci dicono Voi dovete andare In guerra Voi dovete Fare questo Perché loro Sono i cattivi Andare a rischiare Appunto la vita Per che cosa Per un ideale Per L'ideale Del paese Che deve Sovrastare tutti Proprio Veramente Uno schifo Queste povere persone Davvero Hanno marciato Nella neve Cioè Mamma mia Solo Hanno rischiato L'ipotermia Avevano giustamente Tutta la famiglia A casa E loro Rischiavano la vita Per che cosa Ripeto Per che cosa Per un ideale No No raga Mi viene proprio Guarda Poi dite Perché la guerra Fa schifo Proprio per sto motivo Cioè La guerra Veramente È una merda Cioè Se non ve l'hanno Fatto capire Cannone Fiber Se non ve l'hanno Fatto capire 1914 Se non ve l'hanno Fatto capire Metallica I System of a Down I Sabaton Quanti altri Gruppi Ve volete Che nomino I 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